Al primo sguardo rivolto a Monsieur Grimald, no, alla prima ispirazione dell'aura olfattiva di Grimald, Grenouille seppe che alla minima insubordinazione quell'uomo avrebbe potuto picchiarlo a morte. La sua vita valeva esattamente tanto quanto il lavoro che lui era in grado di sbrigare. Consisteva ormai soltanto nell'utilità che Grimald gli attribuiva. E così Grenouille si piegò senza fare neppure per una volta un tentativo di ribellione. Da un giorno all'altro isolò di nuovo in sé tutta l'energia della sua ostinazione e della sua scontrosità. La usò soltanto per sopravvivere, alla maniera di una zecca, in quel periodo di anni bui che gli stava dinnanzi. Tenace, parco, senza dare nell'occhio, tenendo la fiamma della speranza di vivere bassa, ma ben protetta. Era un modello di arrendevolezza, di discrezione e di solerzia. Eseguiva gli ordini alla lettera. Si adattava a qualsiasi cibo. La sera si lasciava chiudere docilmente in una rimessa, costruita a fianco della conceria, in cui si costudivano gli attrezzi e si appendevano le pelli salate da trattare. Qui dormiva sulla nuda terra battuta. Durante il giorno lavorava finché c'era luce. D'inverno otto ore. D'estate quattordici, quindici, sedici ore. Spolpava le pelli che puzzavano in modo bestiale. Le metteva a bagno, le privava dei peli, le calcinava, le trattava con acidi, le batteva, le spalmava con la concia, spaccava la legna, scortecciava betulle e tassi, scendeva nelle fosse per conciare, piene di vapori caustici, ammucchiava strati una sopra l'altra, pelli e cortecce come gli ordinavano i garzoni, vi spalmava sopra noci di galla schiacciate e ricopriva l'orribile catasta con rami di tasso e terra. Molto tempo dopo, doveva disotterrarla e togliere dalla fossa quei cadaveri di pelli ormai mummificati in cuoio conciato. Quando non sotterrava e disotterrava le pelli, trasportava l'acqua. Per mesi porto su acqua dal fiume, ogni volta due secchi, centinaia di secchi al giorno, perché il mestiere richiedeva enormi quantità d'acqua per lavare, per ammorbidire, per bollire, per colorare. Per mesi non ebbe più una sola fibra asciutta in corpo dal gran portare acqua. La sera i suoi vestiti grondavano acqua e la sua pelle era fredda, molle e gonfia, come cuoio lavato. Dopo un anno di questa esistenza più bestiale che umana, si prese il carbonchio, una temuta malattia d'acconciatore che in genere ha un decorso mortale. Grimal aveva già rinunciato a lui e si guardava attorno per cercare un sostituto, non senza rimpianto del resto, perché non aveva mai avuto un lavorante modesto e redditizio come questo Grenoil. Ma contro ogni aspettativa, Grenoil superò la malattia. Gli rimasero solo le cicatrici dei grandi carbonchi neri dietro le orecchie, sul collo e sulle guance, che lo sfigurarono e lo resero ancora più brutto di quanto già non fosse. Inoltre, gli rimase, vantaggio incalcolabile, una resistenza al carbonchio, di modo che, da allora persino con le mani screpolate e sanguinanti, potrei spolpare le pelli più dure, senza correre il rischio di infettarsi di nuovo. In questo si distinguevano soltanto dagli apprendisti e dai garzoni, ma anche dai suoi potenziali successori, e poiché adesso non era più tanto facile come un tempo sostituirlo, il valore del suo lavoro aumentò e con esso il valore della sua vita. D'un tratto non fu più costretto a dormire sulla nuda terra, ma ebbe il permesso di costruirsi una lettiera di legno e ricevette della paglia da ammucchiarvi sopra e una coperta personale. Per dormire non lo rinchiudevano più, il cibo era sufficiente. Grimal non lo teneva più come un animale qualsiasi, bensì come un animale domestico, utile. Quando compì 12 anni, Grimal gli concesse mezza giornata di libertà la domenica e a 13 persino nei giorni feriali. La sera dopo il lavoro ebbe il permesso di assentarsi per un'ora e fare quello che voleva. Aveva vinto, poiché viveva e possedeva una porzione di libertà che bastava per continuare a vivere. I tempi in cui il problema era superare l'inverno erano passati. Grenoie, la zecca, si ridestò. Fiutò l'arrivo di tempi nuovi. Fu preso dal piacere della caccia. Dinanzi a lui si apriva l'area olfattiva più grande del mondo, la città di Parigi. Era come nel paese di Bengodi. Già solo i quartieri confinanti di Saint-Jacques de la Brucherie e di Sainte-Estache erano un paese di Bengodi. Nei lontani vicoli di Rue Saint-Denis e di Rue Saint-Martin gli uomini vivevano così stretti l'uno all'altro, le case erano così pigiate l'una contro l'altra, altre cinque e sei piani che non si vedeva al cielo e già a terra l'aria stagnava come in canali umidi piena di odori. Si mescolavano odori di uomini e di animali, esalazioni di cibi e malattie, d'acqua e pietra e cenere e cuoio, di sapone e pane appena sfornato e uova fatte bollire in aceto, di pasta e ottone lucidato, di salvia e birra e lacrime, di grasso e paglia umida o asciutta. Migliaia e migliaia di odori si condensavano in una poltiglia invisibile che riempiva i buchi dei vicoli e al di sopra dei tetti si dileguava di rado, giù a terra mai. Le persone che vivevano lì non sentivano nessun odore particolare in questa poltiglia. Era pur nata da loro e li aveva impregnati di continuo. Era come un vestito caldo portato a lungo, di cui non si sente più l'odore e che non si avverte più sulla pelle. Ma Grenoë sentiva tutti gli odori come per la prima volta e non soltanto percepiva l'insieme di questo miscuglio di odori, ma lo suddivideva in modo analitico nelle sue minime e più indistinte parti e particelle. Il suo naso raffinato sbrogliava quel groviglio di esalazioni e difettori in singoli fili di odori fondamentali che non si potevano scomporre ulteriormente. Per lui era un indicibile divertimento di panare questi fili e avvolgerli sul fuso. Spesso stava immobile, appoggiato al muro di una casa, addossato a un angolo buio, occhi chiusi, la bocca semiaperta e le narici dilatate, muto come un pesce predatore in un corso d'acqua grande e oscuro dal lento fluire. E quando, infine, un alito di vento gli portava davanti l'estremo di un esile filo di aroma, allora lo ghermiva e non lo lasciava più andare, non annusava altro se non quest'unico odore, lo teneva stretto, lo risucchiava in sé e in sé lo custodiva per sempre. Poteva essere un odore che conosceva da tempo, oppure una sua variante, ma poteva anche essere del tutto nuovo, senza nessuna somiglianza o quasi con tutto ciò che aveva annusato fino allora e tanto meno visto. L'odore della seta stirata, ad esempio, l'odore di un infuso di timo, l'odore di un pezzo di broccato ricamato d'argento, l'odore del tappo di una bottiglia di vino raro, l'odore di un pettine di tartaruga. Grenoil rincorreva questi odori, a lui ancora sconosciuti li inseguiva con la passione e la perseveranza di un pescatore con la lenza e li accumulava in sé. Quando avevano usato a sazietà la grossa poltiglia dei vicoli, andava in una zona più ariosa, dove gli odori erano più rarefatti, si mescolavano al vento e si diffondevano quasi come un profumo, e cioè nella piazza dei mercati generali, dove di sera negli odori continuava a vivere il giorno, invisibile, ma così evidente, come se là tra la folla si affrettassero ancora su e giù i mercanti, come se ci fossero ancora i panieri stracolmi di verdure e di uova, le botti pieni di vino e di aceto, i sacchi di spezie e patate e farina, le casse di chiodi e di viti, i banchi della carne, i banchi pieni di stoffe e stoviglie, e suole da scarpe, e tutte le altre cinto cose che si vendevano di giorno. Tutto quel via vai era presente fino al minimo particolare nell'aria che si era lasciato dietro. Grenoie vedeva tutto il mercato con l'olfatto, se così si può dire, e con l'olfatto lo vedeva più precisamente di quanto altri avrebbero potuto vederlo con gli occhi, giacché lo percepiva in un secondo tempo e quindi in modo più elevato, come essenza, come lo spirito di qualcosa che c'era stato, qualcosa di non turbato dagli attributi usuali del presente, quali il rumore, i suoni striduli, le promiscuità disgustose degli uomini in carne e ossa. Oppure si recava nel luogo in cui avevano decapitato sua madre, in Place de Grève, che andava a lambire il fiume come una grossa lingua. Qui, ancorate a riva oppure ormeggiate ai pali, c'erano le navi e sapevano di carbone e grasso e fieno e cime umide. E da ovest, da quella unica pista tagliata dal fiume attraverso la città, veniva una gran corrente d'aria e portava gli odori del paese, dei prati vicini a Ney, dei boschi tra Saint-Germain e Versailles, delle città più lontane come Rouen o Caen e talvolta persino del mare. Il mare aveva l'odore di una vela gonfia di vento in cui rimaneva un sentore d'acqua, di sale e di sole freddo. Aveva un odore semplice il mare, ma nello stesso tempo così vasto e unico nel suo genere che Grenouille esitava a suddividerlo in odore di pesce, di sale, di acqua, di alga, di fresco e così via. Preferiva lasciare intatto l'odore del mare. Lo custodiva intero nella memoria e lo godeva indiviso. L'odore del mare gli piaceva tanto che avrebbe desiderato una volta averlo puro, non mescolato e in quantità tale da potersene ubriacare. E in seguito, quando apprese dai racconti come era grande il mare e come si poteva percorrerlo con navi per giorni interi, senza vedere terra, nulla, gli fu più gradito che immaginare di trovarsi su una di quelle navi, molto in alto, nella coffa dell'albero più a prua e di volare attraverso l'odore senza fine del mare, che in realtà non era più un odore, ma un respiro, un espirare la fine di tutti gli odori e gli pareva di dissolversi in questo respiro dal piacere. Ma era destino che non si arrivasse a tanto perché Grenoille, che stava sulla riva in Place de Greff, espirando e inspirando più volte il soffio leggero del vento marino che gli passava sotto il naso, non avrebbe mai visto in tutta la vita il mare, il vero mare, il grande oceano che si stendeva a Occidente e non avrebbe mai potuto confondersi con quell'odore. In breve tempo aveva annusato così a fondo il quartiere che Saint-Eustache e l'Hôtel de Ville, che ci si orientava anche nella più buia delle notti e quindi ampliò il suo terreno di caccia, da prima a ovest, in Faubourg Saint-Honoré, poi in Rue Saint-Antoine, su fino alla Bastiglia e infine persino sulla riva opposta del fiume, nel quartiere della Sorbona, in Faubourg Saint-Germain, dove abitavano i ricchi. Dalle inferiate delle porte carraie veniva l'odore dei sedili in pelle delle carrozze e della cipria delle parrucche dei paggi e al di sopra delle alte mura si diffondeva dai giardini il profumo della ginestra e delle rose e dei ligustri appena potati. Fu anche qui che Grenoil per la prima volta non usò profumi nel vero senso della parola, semplice acqua di lavanda o di rose con cui in occasione delle feste si alimentavano le fontane a zampillo dei giardini, ma anche aromi più pregiati e più complessi di tintura di muschio mista a olio di neroli e tuberosa, giunchiglia, gensomino, cannella, che di sera le carrozze eleganti si lasciavano dietro come una pesante scia. Grenoil registrava questi aromi come registrava odori profani, con curiosità, ma senza particolare ammirazione. Certo, si accorgeva che il profumo aveva lo scopo di creare un effetto inebriante e avvincente e riconosceva la bontà delle singole essenze di cui erano composti i profumi, ma nell'insieme gli sembravano piuttosto rozzi e grossolani, più raffazzonati che non combinati e sapeva che sarebbe stato in grado di produrre profumi buoni, ben diversi, se solo avesse potuto disporre degli stessi elementi. Molti di questi elementi li conosceva già dalle bancarelle di fiori e spezie del mercato, altri li risultavano nuovi e questi ultimi li filtrava dalle miscele di aromi e li custodiva senza nome nella memoria. Ambra, Zibetto, Paciulli, Sandalo, Bergamotto, Vetiver, Opoponaco, Benzoino, Fior di Luppolo, Castoreo. Non era schizzinoso, tra quello che comunemente era definito un buono o un cattivo odore non faceva distinzioni, non ancora. Era avido. L'unico scopo delle sue battute era quello di possedere tutto ciò che il mondo aveva da offrire in odori e l'unica condizione che gli odori fossero nuovi. L'odore di un cavallo sudato per lui era come l'odore delicato e acerbo delle gemme di rosa in fioritura. Il puzzo acre di una cimice equivaleva all'odore di un vitello lardellato che usciva dalle cucine dei signori. Divorava tutto, risucchiava tutto dentro di sé e anche nella sintetizzazione nella sintetizzante cucina di odori della sua fantasia nella quale combinava di continuo aromi nuovi non regnava ancora un principio estetico. Erano bizzarrie che creava e ben presto distruggeva come un bambino che gioca con i cubetti per costruzioni, ricco di inventiva e distruttivo senza un principio creativo riconoscibile.